Grazie, buon pomeriggio. Voglio condividere con voi un disservizio di Facebook, se per caso voi come me avete ancora Facebook vi voglio far vedere subito che cosa è che non va, ok? Andiamo a vedere. Allora, innanzitutto se mi volete seguire anche su Facebook chiedetemi l'amicizia come Pepe Channel 1, ok? Andiamo a vedere cosa non funziona. Abbiamo qua, come se io forse voglio pubblicare un link di YouTube oppure anche se voglio fare un post, guardate che cosa succede, lo pubblico, guardate, non c'è, c'è quello che ha messo su Pepe Channel 2 e sulla mia pagina di Facebook, guardate, scorro ma non c'è, se invece, se invece aggiorno, facendo F5, ecco qua, ecco qua che l'ho trovato e dice che Pepe Channel 1 ha pubblicato questo video, ok? Speriamo che quelli di Facebook, anzi Meta, quelli di Meta che hanno in mano Facebook, risolvono al più presto questo disservizio, ok? Ciao ciao!